Partiamo da questo primo tempo, davvero avete giocato un gran primo tempo, soprattutto lì in mezzo al campo dove ci sei tu, c'è Forgione, c'era Gaie. Sì, sì, sono molto contento, secondo me abbiamo fatto una bellissima prestazione, non abbiamo sofferto tantissimo. Sono molto contento per Forgione e Gaie, due assist e Gaie gol, primo gol, sono contentissimo, ma la cosa più importante era la vittoria e averla indirezzata subito nel primo tempo era fondamentale. Questa è la terza vittoria consecutiva? È la terza, diciamo che ci abbiamo messo un po', però adesso meno male che stiamo riuscendo a ottenere anche i risultati, stiamo cercando anche di provare a giocare un po' di più perché comunque sia giusto che gli attaccanti abbiano più palle e gol perché sono giocatori importanti e che come abbiamo visto oggi anche non facendo gol possono farci la differenza e speriamo di continuare già da giovedì su questa striscia. Senti Fabio, mi dici che cosa ha portato in poche parole Luiso a questa squadra? Sì, l'abbiamo detto tante volte, veniamo in un periodo negativo, appena arrivato il mister non meritava quella figura che abbiamo fatto, c'è stata una reazione, ci siamo messi a disposizione sua e lui è stato devo dire molto umile a mettersi anche a disposizione nostra, quindi ci siamo venuti tutti e due incontro. Poi lui ha detto che vi aiutate un po' di più in campo, almeno questo è quello che vede. Sì, sì, senza dubbio, la prima cosa che ci ha detto è di aiutarci, di darci una mano, che siamo una squadra, che bisogna stare tutti insieme, compatti, uniti e poi questi sono i risultati, quindi ha ragione lui. Un'ultima cosa Fabio, sicuramente li avrei sentiti durante la partita, ma soprattutto alla fine, c'è questa contestazione nei riguardi della società, ma in particolare del direttore generale Sartiano. Ecco, voi li sentite in campo, ne parlate, che cosa ti suscita questa contestazione? No, onestamente mi dispiace, mi dispiace per il direttore, mi dispiace per la società, mi dispiace anche per i tifosi, secondo me in questo momento bisogna stare, l'unica cosa che posso dire è che bisogna stare tutti uniti, tutti compatti per il bene del Chieti, ottenere fino alla fine più vittorie possibili, dopo sono questioni che vanno al di là, io posso dire solo che bisogna rimare tutti dalla stessa parte per il bene del Chieti.